Ora vi do un'altra pessima notizia. La mente, quando voi nascete... è così... aperta. La mente è aperta, non avete mente conscia. Bambini non hanno la mente conscia. Ora, le neuroscienze prima ci dicevano che gli schemi mentali quindi le abitudini non diventiamo troppo tecnici perché non serve. Si acquisivano nei primi sei anni di vita. Adesso le ultime ricerche sono un po' più severe. Ci dicono nei primi tre anni. Io istintivamente ho sempre pensato empiricamente, poi l'ho provato così anche con degli studi, ripeto che siano tre anni o sei anni ho sempre pensato che già quando i bambini vanno all'elementare sono già programmati. Non per niente vedete già il comportamento molto diverso, le abitudini molto diverse. Ok? Quando voi siete nati... Quindi, questo è per i genitori che sappiate che quando ci sono quei piccolini quei bambini che guardano, hanno gli occhi sgranati così stanno cercando di capire come cazzo funziona questa vita e stanno immagazzinando informazioni anche quando pensate che loro non sentano e che non capiscono, gli parlate di fianco discutete con vostra moglie dei problemi di soldi, no? C'è il bambino sta ricevendo tutte queste belle informazioni nella sua bella mente inconscia che non ha l'abilità di rifiutare quello che voi gli mettete dentro. Consciamente voi potete rifiutare un pensiero. Ok? Potete farlo. Ok, no. Sono in uno stato... Sto pensando a una cosa negativa siccome potete pensare solo una cosa alla volta con buona pace delle donne e del multitasking che hanno un ping pong mentale però è una alla volta state pensando pensate a una cosa negativa in questo momento. Qualunque cosa mi muore il bambino mi muore la mamma. Ok? Pensate che siete a funerare? Ok. Adesso invece mettetevi a pensare a una banana. Perfetto. Pensiero di prima è dato via. Ok? Potete pensare a una sola cosa potete rigettare la mente inconscia invece non ha l'abilità di rigettare accetta e basta. Funziona in modo deduttivo tutto quello che c'è dentro va bene e non è in grado oltretutto di distinguere tra un'esperienza vera e una cosa vividamente immaginata. Ok? Potete fare differenti però questo è il motivo per cui quando guardate un film potete sperimentare paura ansia terrore potete piangere eccetera beh voi state guardando un film sapete che è finto è strumento inconscio non lo sa oppure voi potete immaginare vividamente di prendere un limone sbucciarlo annusarlo il limone nella vostra mano ok pelarlo tagliarlo ok puoi spremere un po' vedere il succo di limone puoi prendere e mangiarlo quanti di voi hanno cominciato a salivare? io solo mentre lo stavo spiegando la mente non si accorge che il limone non c'è ok potete fare anche i pesi senza i pesi voi immaginatevi per chi fa palestra i pesi sono fondamentalmente inutili so che adesso i bodybuilder mi ammazzeranno però voi potete fare degli allenamenti vi spaccate facendo finta di avere i pesi in mano la mente non sa che i pesi non ci sono quindi potete comportarvi come se i pesi ci fossero potete farlo con gli occhi chiusi gli occhi aperti con qualunque tipo di esercizio uscite massacrate ok poi usate pure i pesi anche io li uso anche oggi ho fatto i pesi però ci capiamo immaginate di avere un bilanciere in mano e di sollevarlo ok potete farlo con gli occhi chiusi e sentite questo bilanciere e provate a sollevarlo a farvi muci posso assicurare che funziona perché la mente non sa la differenza e questo è un problema perché vuol dire che tutte le cazzate che vi circondano tutte le cose su quanto il denaro sia limitato il governo ladro le tasse ed è normale guadagnare 1500 euro al mese tutte queste idiozie che non esistono in città la paura la paura a me hanno installato per esempio come a molte persone quando sono nate la paura di più o meno tutto in realtà ok non fare quello mamma mia cosa succede non fare questo mia mamma mi diceva da piccolo non camminare sul muretto perché se cadi mori sono un problema grosso oltretutto ok vi rendete conto quindi quando il pupo è piccolino quando voi pensate che non capiscano sono original vabbè e sentono tutto quello che voi dite tutte le cazzate eccetera eccetera non hanno la mente conscia quindi tutto quello che sentono viene sparato nella mente inconscia e rimarrà lì a vita fino a che non incontrate qualche esperto tipo me che vi dice come si riprogramma questa roba che vi diceva che vi diceva